Vuelta e Spa 2017, prima tappa, una cronosquadra inaugura la corsa Prende il via questoggi, Dani Mace, la Vuelta edizione 2017. Il percorso, come sempre, offre terreno fertile per gli scalatori e la presenza dei migliori ciclisti al mondo alza il livello d'attesa Ultima recita di Alberto Contador, sulle strade di casa e al cospetto di Froome, il recente dominare di Francia sempre respinto dalle strade di Spagna. L'Azzurro di Arweni Bali, giovani protagonisti e campioni affermati Nimes, Nimes, una cronosquadra di 13.7 km assegna la prima maglia di leader. Distanza ridotta, distacchi risicati, questa l'impressione della vigilia Il percorso è regolare, unica nota stonata all'interno dello spartito al KM 7.3, con un GPM di terza categoria, l'Alto dei Nimes. La BMC, specialista del format, parte con il favore del pronostico, diverse le squadre che possono far bene Rispetto ai rivali per la generale, Chris Froome può di certo contare su un gruppo forgiato a queste difficoltà. Il team Sky, infatti, ha le carte in regola per giocarsi la tappa Attenzione anche all'Orica, con pagine a più punte. Giornata di difesa per Nibali e Daru. Prima squadra in strada alle 17, la diretta della corsa su Eurosport. Attenzione anche all'Orica e Daru. Prima squadra in strada alle 17, la diretta di difesa per Nibali e Daru.